Allora, chi comincia? Asopea Begint Corriere della Sera Mister, ieri parlava di promossi e bocciati, di giudizi, di pagelle la sua valutazione su chi aveva giocato poco finora, Unas, Verdi, chi rikesce addirittura all'esordio stagionale e che valore possono avere questi ragazzi nel proseguo dell'avventura europea? Beh, insomma, Verdi e Unas hanno determinato risultato, comunque sì, è stata una partita seria da parte di tutti quello era, diciamo, l'obiettivo primario, il rischio di queste partite è proprio quello di prenderle con un po' di sufficienza ma in realtà credo che l'approccio alla partita è stato buono per tutti i 90 minuti Grazie a presto Scusi Grazie a presto 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 Ma comunque bisogna andare al Dome in Neapel per chiedere, per avere un po' più giusto. La sconfitta della Juventus contro l'Atletico, visto che c'è lo scontro diretto e ci sono tre settimane di tempo per la Juventus per preparare la parola di ritorno, può riaprire il campionato per il Napoli? A livello psicologico la Juventus può risentirne? Beh, la partita di ieri ha dimostrato che la Juve non è imbattibile, perché squadre imbattibili credo che al momento non esistano e a volte può essere una considerazione giusta dire che c'è un eccesso di altruismo, Ma l'eccesso di altruismo non è molto preoccupante, sarebbe molto più preoccupante, insomma, ho vissuto casi personali di eccesso di egoismo, di giocatori molto molto egoisti e lì il problema è un po' più serio, il fatto che ci sia un eccesso di altruismo lo posso condividere, ma lo posso dire anche che è facilmente risolvibile. La prima domanda è un'ottima domanda, come prima, come prima, 10 Torschancen, ma solo 2 Tore, può essere anche se, se non sono così sottile? e mi ha detto che questo può anche essere, quando ero un giocatore, ha spiegato con molti giocatori che spiegavano spiegato, e questo è una buona e una buona parte, quindi le ultime due, questo signore che non conosco, e poi Deiario Asse. Qual è la differenza tra il Zurico che ha giocato oggi e lo Zurico della partita di andata? Io credo che oggi è stata una squadra meno timorosa rispetto alla partita di andata, ha giocato un po' più aperto, un po' più sciolta, forse con meno responsabilità rispetto alla partita di andata. Deiario Asse, ultima. Salve mister, oggi il presidente dell'Atletico Madrid, Ferrezzo, ha dichiarato che Cristiano Ronaldo avrebbe vinto tre Champions League e non cinque, mi scusi, perché le due che ha soffiato proprio contro l'Atletico non vanno considerate. Ecco, poiché una di queste due l'ha vinta lei a Lisbona, volevo un suo commento. Ma perché non vanno considerate? Secondo Teresa non vanno considerate. Ha detto lui così, ecco, perché le ha vinta lei una, volevo un commento, una battuta a questa dichiarazione. non lo so, ma che dire, il Real Madrid ha vinto cinque Champions credo meritatamente. Insomma, è vero che ha trovato di fronte un avversario tosto, perché l'Atletico è stato e continua ad essere una squadra fortissima. Io auguro all'Atletico un giorno di poter vincere la Champions. Bene, ora con la traduzione. Che è successo? No, niente. La traduzione. Andiamo con la traduzione. La ultima domanda era Cristiano Ronaldo, che ha detto che con il Real Madrid ha vinto cinque Champions League, ma due sono non gültige, perché le due gegen l'Atletico Madrid hanno vinto. e questo era una domanda interessante. Grazie mille. Grazie mille.